Audi Freddi domando, ma in termini matematici questa moneta può sopravvivere, è sopravvalutata, è una moneta che non accompagnandosi a un disegno politico rimane lì un po' sospesa, come la vedi tu? Anzitutto ci sono due tipi di valutazione, c'è quella reale, c'è quella fittizia ovviamente, che per esempio è quella che riportano i giornali o i media, che in qualche modo vuole pilotare la valutazione in un certo modo. E poi c'è il legame ovviamente con l'economia reale. Secondo me però, concentrarsi sull'euro, e puoi vedere che questo sia il problema, in realtà l'euro è semplicemente uno strumento, non è che si può essere favorevoli o contrari all'euro così come favorevoli o contrari all'Europa, dipende da quale euro guidato da chi, quale ruolo per esempio della banca centrale, di Draghi, delle politiche che si vogliono fare, è idem per l'Europa, non è che l'Europa di per sé sia un male o un bene, dipende come viene strutturata, e certo che se è nelle mani di qualche paese, per esempio la Germania, si diceva adesso, il lico paese in cui salgono i salari, oppure nelle mani si dice delle multinazionali, ma non è che se uno abolisce l'euro o abolisce l'Europa, poi le multinazionali spariscono. Se sono loro il problema, allora bisogna evitare che interferiscano con l'euro e con l'Europa e che interferiscono anche con le nuove strutture o le nuove monete che ci saranno in seguito, altrimenti si cambia semplicemente la facciata, ma mi sembra che poi la sostanza rimane uguale.